Ammontano oltre 100 milioni di euro i fondi europei destinati all'Abruzzo per il 2023. Il dato è emerso in occasione del convegno Competitività, Innovazione e Ricerca, le nuove misure della Regione Abruzzo a sostegno delle imprese che si è svolto ad Atessa. La Regione contribuirà per il 18% con proprie risorse, ha spiegato alla stampa il Governatore Marco Marsilio. È un'occasione molto importante di crescita, di competitività, di sviluppo, di innovazione tecnologica per le nostre imprese. La Regione Abruzzo sta facendo un grande sforzo perché questi fondi europei messi in campo comportano anche una partecipazione finanziaria importante del bilancio regionale. A differenza di altre regioni che sono ferme e magari stanno facendo polemica con il Governo per chiedere la copertura di questo cofinanziamento invece di usare il proprio bilancio con altri fondi, in particolare con i fondi della sviluppo e coesione, la Regione Abruzzo mette invece mano al proprio portafoglio, fa uno sforzo finanziario importante, il 18% dei fondi che vengono messi a disposizione sono coperti con le nostre risorse e lo abbiamo fatto perché pensiamo e crediamo che non ci si debba fermare, non si debba attendere oltre. La crisi economica conseguente prima alla pandemia e poi alla guerra in Ucraina che ancora perdura e ai costi energetici che ancora sono troppo alti morde bisogna quindi mettere in condizioni l'economia e le imprese di poter ripartire e di poterlo fare con il sostegno delle istituzioni. I fondi non possono rimanere fermi a marcire né attendere i tempi delle polemiche, noi dobbiamo lavorare e mettere a disposizione queste risorse di chi davvero lavora e crea lo sviluppo e l'economia del territorio. La regione si sta adoperando per informare l'imprenditore, il tessuto imprenditoriale regionale ma insomma anche le piccole imprese, anche le micro imprese di quali siano le opportunità che ci sono e che permettono di ricorrere a dei fondi utili per gli investimenti. Oggi è un incontro particolarmente operativo. Oggi sicuramente un incontro tecnico in cui presentiamo i primi due bandi a valere sul FESR sulla programmazione 21-27 per un totale di 67 milioni di euro, un primo bando di 40 milioni di euro che permetterà alle imprese abruzzesi di essere più competitive sul mercato, un secondo bando di 27 milioni di euro un po' meno materiale, un po' più immateriale che finanzia piccoli progetti di ricerca per far sì che le imprese abruzzesi possono lavorare alla creazione di nuovi prodotti e di mettere sul mercato e quindi diventare sicuramente più competitive.